Salve a tutti, sono Ferretti Fabrizio, pro staff Artico. Oggi ci troviamo a Vicenza per presentare le nuovissime canne da spinning di casa Artico. Prodotti 100% prodotti in Italia, con Ferrari Carbonio. Il nome deriva dal nome del proprietario di Artico, Sergio Artico in persona, il Boss. Le serie vengono delimitate da serie da 2,5 monopezzo, 2,40 e 2,70 due pezzi, due sezioni. Poi abbiamo la possibilità anche di avere canne superiori da 8 pieti per la pesca e la leccia. Le canne ricoprono la pesca dall'acqua dolce all'acqua salata, dalla trota arrivare al branzino, alla leccia, a 360 gradi. Le canne sono completamente costruite, realizzate e montate in casa italiana, 100% prodotto italiano. Allo stesso tempo è stata riprodotta la nuova acuola marina a testa bianca. La nuova acuola marina è stata prodotta con 3 grammature di carbonio per dare un'azione di parabola con una riserva di combattimento per gli ultimi incentivi del tonno. Le canne sono completamente, anche queste, realizzate 100% carbonio Ferrari. La ditta, essendo un'azienda artigiana, i prodotti sono completamente artigiana, quindi completamente italiani.